Si va verso il gran finale per quella che è stata ed è un'importantissima collaborazione fra il gruppo musicale Ziba Alma Libre, l'assessorato al Comune di Moglie e la Banca Popolare di Ancona. Dopo aver inciso l'intero album presso la fornace FM23 di Moglie di Maiolati Spontini ed aver girato il video del singolo che dà il titolo all'album, Ziba e la sua band saranno presenti sabato 26 maggio per la primissima visione del loro videoclip alla biblioteca La Fornace di Moglie e in serata suoneranno in concerto al Teatro Pergolesi di Iesi. Un grande evento frutto dello sforzo e della partecipazione di diverse forze in campo. Sinergia, la parola è brutta, ma sinergia, la Banca Popolare ci ha aiutato in questa scommessa, diciamo, in questa opportunità che si è voluta dare a un gruppo emergente ma anche se già pluripremiato nel settore, diciamo, con il premio Tenco, il premio Bindi, quindi non parliamo di degli sconosciuti assoluti. Sono secondo me un gruppo emergente che veramente ha qualcosa da dire e abbiamo costruito questo evento, questo lavoro, questo lavoro più che un evento è un lavoro che è stato costruito all'interno della Fornace, nel forno Hoffman, che ha mostrato, diciamo, delle caratteristiche che non gli conoscevamo, cioè delle caratteristiche acustiche molto particolari. Il prodotto poi renderà merito a queste caratteristiche e poi questo video che hanno voluto girare a testimonianza, diciamo, di questo periodo trascorso qui in Vallesina, nella Fornace appunto, è venuto un video, secondo me, molto bello, molto interessante, molto particolare. Questo artista ha un tocco particolare sia nello scrivere le canzoni sia anche nel proporre un video di questo genere.